L'acquario è ancora una una opposta, ancora una giornata piuttosto faticosa per quanto li riguarda, in un periodo che rimane comunque difficile per voi, amici dell'acquario, perché ci sono tante forze planetarie che un po' vi remano contro, quindi tutti quegli acquari che si lamentano un pochettino anche della sfortuna, beh non hanno tutti i torti devo dire, soprattutto in questa giornata la sfortuna potrebbe essere un po' protagonista, quindi cercate anche di non agevolarla, quindi studiando con attenzione tutte le mosse da fare e tutte le persone anche da incontrare, perché in effetti questa è una plura che parla soprattutto di incontri, di rapporti personali che possono darvi qualche delusione, anche qualche dispiacere in questa giornata, però magari selezionando le persone, selezionando gli impegni e rimandando anche gli incontri quelli veramente importanti, beh potreste in qualche modo mettere la sfortuna nel sacco.